C'era una volta, tanto tempo fa, un regno lontano il cui nome nessuno ricorda. Quella sera tutti gli abitanti del re Ame erano stati invitati alla grande testa da ballo, indetta da sua maestà, il re. Al calar del sole, dame e cavalieri d'ogni cantone gremivano il sontuoso palazzo reale. Fu allora che egli fece il suo ingresso tra la folla e tutti si fermarono ad osservare incuriositi l'arrivo di quello strano personaggio. Egli indossò il suo copricapo e in pochi secondi, come per magia, in ogni dove e cheggio una melodia, come un suono prorompente che non s'era udito mai, era giunto. Chi ti manda? Non te lo posso dire, altrimenti sono un uomo morto. Ti infilo io in una barra se non me lo dici.